Benvenuti a tutti, Inter Music Show, DJ Naga. Vi faccio sentire, la mia musica è preferita. Dalla dieci a cinque, vai! Così? Quando? Che dico questo? In aereo. R? A-R-O, sì. Aereo. A-R-O, a-R-O. Aspetta, cosa dico? Ricorda, è home, capito? Ah, ricorda casa tua in Giappone. Fatto. Bene? Va bene. Prova Inter Channel a soli 4 euro per sette giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama all'199 100 200. Prova Inter Channel e poi scegli. A-R-O, a-R-E-I. X-R-O, a-R-O, 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 a-R-O.